Al fine di organizzare in modo più funzionale gli accessi alle cancellerie ed evitare al tempo stesso file di attesa che potrebbero determinare assembramenti, circostanza da evitare nell'interesse della tutela della salute di tutti, si adottano le seguenti misure. Inizia così il comunicato del Tribunale di Pisa, cercando la soluzione più efficace per andare incontro alle regole dettate dall'emergenza sanitaria. Un metodo che oramai sembra funzionare a pieno è quello della prenotazione online, indicando anticipatamente il motivo dell'accesso. In questo modo la cancelleria potrà preparare il materiale in anticipo, riducendo al minimo l'attesa dell'utenza. Una soluzione che ha doppia funzione, quella di evitare assembramenti, ma anche quella di rendere il servizio più efficiente. È stato riservato anche un canale differente per quei casi urgenti che non hanno avuto la possibilità di procedere alla prenotazione online. Sono inoltre previsti incontri con l'ordine degli avvocati per testare tale nuova modalità di prenotazione e porre rimedio ad eventuali criticità che dovessero sorgere. Grazie a tutti!